bella rega sono loze e questo è il decimo episodio del del let's play nella survival maps map anzi perchè è una sola meno male o cazzo la torcia non l'ho messa io o si ah si pd dunque dove è la bench work ah no e dicevo questa è la decima puntata bla 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 finito lasciatemi giocare in pace allora fai un piccone e fai un altro piccone ok scala pioli come l'allenatore del bolo pd ah eccolo creeper sentex sentex ma guarda che nabbo non mi arriva l'esperienza come mai come mai qui pacisti scalina grazia metta arenari metta ricarichi e dove cazzo è la chiave guardalo guarda il cecchino no l'ho chillato ok allora dunque picca picca si dice picca o piccona o picc pensa agli inglesi che dicono piccone pic two pic three pic one pic two cazzo è sta roba pd qui ci sono il pieno di mob allora metti una torcia qua e il mob non spawnerà metti una torcia qui e il mob non spawnerà metti una torcia la e il mob se ne va a fangu metti una torcia qui piglialo negli dietro occio micchia più che a minecraft mi sembra di sta mi sembra boh non so coniugare perciò me ne sto zitto cioè nel senso mi sembra un altro gioco uno sparatutto perché devo sempre stare in occhio che non ci siano mob dei quali i più odiati da me sono i teschi io voglio sapere dove cazzo si sta nascondendo eccoli qua bingo no sentili cazzo uè uè piccone crunch dicono crepa bastardo si però pd eccoli ok li ho trovati bene very well sono qua sotto ecco creeper intravedo un creeper intravedo delle robe fatte da un umano cioè quelle finestre non possono essere state fatte dal gioco pd no leva leva cos'è quel coso la ha del vetro dunque regas siccome io stai fermo questa volta crepi te l'ultima volta bastardo metti una torcia lì dai slenderman no come cazzo si chiama enderman ender ender idiota dammi l'arco solo a coppo non me ne frega un cazzo bastardo scappa coniglio e creeper uè piccone il corridoio degli orrori questo è raga pd che cazzo è sto zombie che mi agola ma levati fan cagar sotto che cazzo ne sono li riesco mica a vedere non ho la vista a 360 però io ho sempre le mie fedeli torce eccoci qua cazzo c'è lì adesso come cazzo faccio vedere un cazzo vediamo un cazzo very well cioè molto bene mettiamo dell'area in aria ah lì escono i mob perchè è buio pd 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 si batte ritirata anzi mi son roti i coglioni eh di ste lastre non si riescono a fare dei gradini oh gredini armiamoci di coraggio come dicevano e forza vi andare anzi set up flag ricognizione cioè adesso che ora è vediamo sarà giorno sarà notte la spada anzi due cazzo c'è ma vaffanculo eccolo la figurati te io voglio fare un headshot da qua vediamo niente niente da fa corro in casa pronti? via pd creeper entra entra chiudi dormi ma vaffanculo dove cazzo sono i mostri? e ora come faccio? sono barricato in casa allora ah si dunque ecco cosa dovevo fare lasciavo tutta eh se no le frecce no caro mio lasciavo tutta la roba che avevo in casa e poi vado all'avventura allora fammi pensare scusate il rumore ma mi sono spostato un attimo con la sedia allora le frecce facciamo un po' d'ordine le mettiamo qua arenaria me ne basta vabbè non fa mai male pietrisco me ne basta 55 carne marcia me la magno rocchio di ragno semi fiore va bene ok due picconi del bastone del legno dove sono i bastoni? eccoli qua i bastoni anzi me ne piglio una 3D una dozzina diciamo dai fammi dormire e fammi dormi e fammi dormi e fammi dormi allora non mi fa dormire eccolo ok ma perché no vets pd chiudi sta porta vabbè stop un attimo il video stop un attimo il video che vedo di sistemare anzi no vabbè continuo perché io ho anche l'uscita sul retro dai mo dove è sto mob? inganna questa come c'è? pd2? eeeh naaa minchia rega ma proprio non va stronzo del cazzo brucia brucia la luce del sole il sole purificatore pd la casa è da rifare ridammi qua tutta la mia roba mi sa di si sentili che soffrono che due coglioni vabbè ma la rifaccio ma la rifaccio e non male che avevo appoggiato tutta la roba lì eh ma che cazzo fai? Porca puttana Allora Porca puttana Vaffanculo va Dammi E che cazzo fai sta porta Sabbia Sabbia Dai Scusate un attimo Oh ok Ok dunque Incastato nero Anzi Anzi no niente Vaffanculo Basta dai Vado Via No Vabbè che due palle Con i creeper Vabbè dai Faccio finire qui l'episodio Per questo episodio è tutto Ci vediamo alla prossima Bella Regas